Sarà stato il sale propiziatorio sparso in campo dal presidente Gianni Monsignori prima del fischio d'inizio. Fatto sta che in un colpo solo la Ponte Vecchio vince 2-1, fa su il derby contro il Ponte Valleceppi, ritrova la vittoria dopo 3K di fila e aggancia l'Angelana portandosi a meno 4 dalla zolla della salvezza diretta occupata proprio dal Ponte Valleceppi. La formazione di Ciuccarelli conosce di nuovo la sconfitta invece dopo 3 vittorie consecutive ma resta comunque fuori dalla zona calda grazie ai risultati che arrivano dagli altri campi. In pratica il Ponte Valleceppi schierato da Ciuccarelli con un 3-5-2 con Biscarini in porta, Ragnacci, Vergaini e Mattia in difesa, Potenza, Sinisi, Fanini, Giambattista e Polidoro in mediana con Romurbanelli e Marri in avanti non si presenta al comunale degli Ornari. Nella prima ora subito lavoro così per Biscarini che al sedicesimo deve uscire su Bufi lanciato da De Luca senza Fuscagni e Mazzasette Grilli schiera i suoi con un 3-4-1-2 iniziale con Bagnetti fra i pali, Regni, Riccardo Ceccarelli e Minelli in difesa, Morrucci, Arcioni, Battistelli e Silvestri a comporre la mediana con pammelati alle spalle di Bufi e De Luca. I padroni di casa sfiorano due volte il vantaggio prima dell'intervallo, prima con De Luca al minuto 27 sull'assist di Bufi, tutto da applausi tranne la conclusione finale, poi con Bufi che al 32esimo centra il palo sul suggerimento dalla destra targato Morrucci. Nella ripresa ti aspetti la reazione del Ponte Valleceppi e invece è subito la Ponte Vecchio a premere sul gas. 8 minuti e Grilli inserisce Arteaga al posto di pammelati da punta al fianco di Bufi con De Luca trequartista. Svarione della retroguardia del Ponte Valleceppi un minuto più tardi, fallo di Ragnacci al limite, De Luca ringrazia e trova la pennellata Mancina che scardina la gara. Ponte Vecchio sul 1-0 e galvanizzati dal vantaggio, i padroni di casa trovano subito il raddoppio con Arteaga che non perdona in contropiede a tu per tu con Biscarini dopo aver rischiato il rosso qualche istante prima sul Ragnacci. Ponte Vecchio sul 2-0 al minuto 61 e suona la sveglia anche per il Ponte Valleceppi dei tanti ex. Dentro Regnicoli a dare peso specifico all'attacco, Ciuccarelli passa al 4-3-3, Grilli risponde con Casciani e Castrichini e disegna un 4-2-3-1. Il Ponte Valleceppi così la riapre subito con il grande ex Marri che trova un 2-1 d'applausi e il gol numero 7 in campionato. Cinque minuti e Regnicoli prima chiede un rigore e poi sul prosiego dell'azione. Il neo entrato Monnici entra dalla sinistra, Regnicoli fa da torre e Gian Battista spreca così da metri zero. È il gol mancato che in definitiva chiude la gara in mezzo un Ragnacci che rischia il rosso e le occasioni insieme al novantesimo, sprecata dalla Ponte Vecchio quando Arteaga calcia sul fondo dopo una ripartenza al rischio autovelox di Silvestri. Finisce 2-1 per Arcioni e compagni che adesso tornano a credere nella salvezza diretta. Se il campionato però finisse oggi anche il Ponte Valleceppi avrebbe di che festeggiare. Questa è l'amicizia che vi lega fuori dal campo, intervista insieme. Luca Grilli, salvezza diretta a meno 4 con questa vittoria. La Ponte Vecchio ha riaperto tutto. Adesso ha riaperto tutto perché ancora siamo laggiù. Chi ha riaperto tutto è il Ponte Valleceppi perché ha fatto una striscia di risultati utili importantissimi da quando è arrivato Fabrizio. Noi abbiamo fatto questa bella vittoria. Magari altre volte non ci siamo riusciti, dico anche per tanta sfortuna, tipo le ultime partite, però fa parte del gioco. Ci prendiamo questi tre punti e adesso poi sono tutti scontri diretti. A partire da domenica con la Ducato? A partire da domenica con la Ducato, che ha vinto anche oggi. Quindi è un'altra squadra che è in forma. Però, ripeto, per noi sono tutti spareggi, tutte finali. In forma era anche il Ponte Valleceppi che arriva invece a Ponte San Giovanni dopo un'ora o giù di lì? Sì, esatto. Siamo arrivati al venticinquesimo del secondo tempo. Però è anche vero che ci hanno messo sotto, hanno creato qualcosa. Noi non abbiamo creato niente, noi abbiamo avuto soltanto l'opportunità di pareggiare e tutto sommato poteva anche essere un pochino troppo, però a sbagliare un gollo in quel modo, che accade, ci può stare. La Ponte Vecchio oggi ha meritato di vincere. Noi, come hai detto te, siamo arrivati tardi e paghiamo a caro prezzo. Però arrivano buoni risultati dagli altri campi. Esatto, questa è l'unica cosa che ci deve un attimo far stare, non dico con il sorriso, però magari perdi qui e arrivano i risultati buoni e ok, va bene.